Siamo qui con il pesco Vittorio Viola, vorremmo chiederle la sensazione che ha nel lasciare Ponticurone e Tortona. Come sempre quando ci sono relazioni e si fa un tratto di cammino insieme è sempre un po' faticoso lasciare. La sensazione è quello che innanzitutto è rendere grazie al Signore per questo percorso fatto insieme. Per me è stata un'esperienza molto bella e significativa e che rimane dentro di noi perché ogni tratto di cammino vissuto insieme non diventa solo un ricordo ma diventa parte di noi. Quindi è vero che si parte però nello stesso tempo ciò che hai vissuto lo porti con te. Per me quindi questo è una certezza ma anche in qualche modo anche il nome di Tortona mi accompagnerà perché come arcivescovo sono vescovo e merito di Tortona a me fa piacere che questo nome sia legato anche al Ministero che adesso diversamente farò a Roma per la Chiesa Universale e per come il Papa vorrà. Allora noi le auguriamo il meglio e in bocca al lupo. Grazie, il Signore è con noi quindi non dobbiamo avere paura di niente. Grazie. 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 Grazie.